Sono al punto K12, richiedo informazioni sull'estrazione. Nessuno può fare fuori Mr. Molle, eh? Il punto di estrazione... Rilassati, Mr. Molle. Mi dirigo al cancello principale della generale. Ti aspetto lì. Pronto. Rilassati. 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 Che cazzo, ha? Sei in ritardo. Nota principale è bloccata. Provare un'altra... Ci sono novità. Ai piani alti vogliono disinquentare Rakuun City. Quindi sbrigati, o puoi dire addio alle chiappe. Rote. Rilassati. Oh 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 Porca troia Oh Perché sei tornato Volevo incontrare Mr. Mort